Viola come il mare 2, il riassunto e le reazioni alla quinta puntata. Il riassunto del quinto episodio della seconda stagione della serie con protagonisti Kanye Aman e Francesca Chillemi, andata in onda giovedì 30 maggio. Nella quinta puntata della seconda stagione di Viola come il mare, in onda giovedì 30 maggio in prima serata su Canale 5, Demir e Viola si occupano insieme della piccola Ioanna, in attesa del ritorno di Fara. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l'avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Dopo essersi ripresa dal coma, Sonia lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l'accusato è proprio il compagno di Fara e padre di Ioanna. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti, e le reazioni degli spettatori su X della quinta puntata della serie, che vede protagonisti Kanye Aman e Francesca Chillemi.